Luigi Di Maio è disposto ad accettare qualsiasi cosa, nel programma si scriva basta che lui faccia il premier. La seconda, questo repentino cambio da un giorno all'altro, di tono, di contenuto, da un giorno all'altro, mi fa prefigurare il rischio che lui da un giorno all'altro lo cambia di nuovo. Quindi io sono semplicemente prudente, sono molto prudente perché diciamo... Io mi ricordo l'incontro con Bersani in streaming, non so se ne avete presente. Era una situazione che possiamo riprodurre 5 anni dopo. E mi ricordo anche 5 anni, non gli ultimi 5 giorni, mi ricordo anche 5 anni di opposizione del Movimento 5 Stelle, nei contenuti, nei modi, nei programmi, dai vaccini alla politica estera, dall'euro. In questi studi Di Maio ha cambiato opinione sull'euro, se stare o non stare nell'euro, 5 volte.